Il gioco di Futurama Salve ragazzi Bentornati ancora In questo episodio speciale di Futurama Allora, questo episodio Non sarà un'altra puntata di Futurama Vera e propria È solo un'extra, una cosa che vi voglio mostrare Un easter egg Che ci sono voluti 16 anni Per trovare Prima di tutto Dobbiamo prendere il martello Ora che abbiamo il martello Rompiamo Il cassetto, prendiamo la tessera Passiamo di qua Dobbiamo andare nella caldaia E dobbiamo prendere Questi due dollari E tornarcene di sopra Una volta fatto questo Facciamo attenzione ai cavi Cercando di non prendere danno Ecco qua Dobbiamo rompere il vetro Senza Prendere l'oggetto Ecco fatto Perfetto Una volta rotto il vetro Torniamo nel laboratorio Prendiamo i soldi da questo cassetto Grazie Torniamo di qua Attenzione sempre ai cavi Saliamo di sopra Prendiamo due dollari dal tavolo Questi qua nello specifico Grazie Andiamo qua dentro Prendiamo gli altri due dollari Rompiamo la tv Ed ecco qua L'easter egg Proprio L'easter egg È un uovo di pasqua Gigantesco Nell'iperspazio Questo easter egg Ci sono voluti 16 anni Per riuscire a trovarlo Non chiedetemi perché Ci abbiano messo così tanto Ma è Incredibile che in un gioco così Del genere Ci sia voluto così tanto Per trovare Una cosa del genere È incredibile È incredibile Beh signori Questo era Un episodio extra Per concludere Questa serie Al meglio Vi ringrazio tutti Per aver seguito anche questo video speciale Grazie a tutti E statemi bene Ciao Grazie a tutti